Ero a casa a provare per un'opera quando mi chiamarono due amici. Siamo andati a un parri abusivo. Uno aveva funghi in biscotti, pastella di mente e cioccolato. Mangione una punta, mi disse. Sarà sufficiente. Ma la cioccolata era deliziosa, così divorai molte stelle in estasi. I miei amici mi abbandonarono. Camminai nella neve fino a casa. Ero a scuola. Ero a scuola. Ero a scuola. Guardava le foto sul computer. Lo schermo divenne un calado scoppio. E i miei fluttuavano verso di me. L'album si intollava gente buffa. Allora riesi da morire. si erano le pane c'哈lasse. L'album si int Ukè non gli öldio, Ero a scuola. Ero a scuola. Ero a scuola. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ha-ha-ha-ha-ha Poi su internet in vita e molti sconosciuti Non venne nessuna Rivivievo molti momenti della mia vita velocemente e intensamente Sottocaperti a fiori, in attesa della parata e così via Perso il senso del tempo, elaboravo la perdita Voci diverse parlavano drame di me Voci dei demoni Era in tocchiamo la mia unico Brian Ma che il tempo di presera un mio telefono Hi Brian Hi Brian Hi Brian Hi Brian Hi Brian Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.